Buongiorno, ciao a tutti. Oggi vi voglio parlare di prevenzione. Io dieci giorni fa sono stato a San Raffaele per fare un check di routine e mi hanno in quel momento trovato un tumore benigno nel cuore. Sono intervenuti subito, sono qui che ve lo racconto. Sono stato dieci giorni a San Raffaele, sono sparito da tutti i social. E veramente devo ringraziare tutta l'equipe di San Raffaele che sono stati geniali, bravissimi. Devo ringraziare Elisabetta Gregorazzi che è stata con me sempre in tutto questo periodo. Mio figlio che è venuto da Monaco a trovarmi all'ospedale a Milano, per cui ho avuto tutti vicino, amici tantissimi, tutti quanti. Però la cosa principale ragazzi, facciamo la prevenzione, facciamo il check tutti gli anni. Io l'ho fatto due anni fa, questo tumore benigno non c'era e quest'anno c'era. Per cui non dobbiamo trascurarci, la prevenzione è fondamentale. Quello dico io, ci sono passato dieci giorni di ospedale e adesso è come qui, da domani si ricomincia. Ciao a tutti. Ciao a tutti.